Don Marcello Cozzi è uno di quei preziosi preti che si battono contro le mafie e nell'associazione libera contro le mafie ha un ruolo delicato, quello dell'accompagnatore, dei familiari, delle vittime, delle cosche e dei testimoni di giustizia. Ho incontrato Caino e un libro attraverso il quale è possibile toccare le due parti del cuore di un pentito, quella del carnefice e quella umana che cerca soluzione. È un viaggio complesso, quello che fa Don Cozzi in alcuni casi difficile da comprendere. Non è la prima volta che abbiamo Don Marcello Cozzi in sala consigliare, presentammo già un suo libro, in questa occasione penso che scopriremo un Don Marcello Cozzi prete, nel senso che è vero, lui è impegnato con libera nella lotta contro le mafie, contro le mafie ambientali io direi pure, soprattutto, però questa volta scoprirete un Don Marcello che nella veste di prete, nella veste di portatore di misericordia, intervista dei detenuti o comunque dei pentiti, sempre di mafia e quindi lo vedremo sotto una luce diversa. Scopriremo la sua umanità nelle interviste e scopriremo un prete però che non non dà assoluzioni, rimette al prossimo ogni considerazione. Al fianco di Don Marcello Cozzi, oltre al sindaco di Tortora Pasquale Lamboglia, l'assessore alla cultura del comune altotirrenico Anna Maria Olivo, il responsabile di Libera Basilicata Gerardo Melchionda e la giornalista Valentina Bruno che ha moderato il dibattito. No al buonismo o alla soluzione a priori, questo è il primo aspetto che Don Cozzi vuole chiarire, la soluzione infatti deve essere frutto di un percorso. Chi sbaglia deve pagare, è giusto che paghi, è giusto che possa saldare il proprio conto con la società ma soprattutto che possa saldare il proprio conto con le persone a cui hanno fatto del male. D'altro canto però è anche importante penso considerare che oggi dobbiamo pensare ai collaboratori di giustizia come a uno strumento in più per combattere e contrastare le mafie. Non è sufficiente, voglio dire, confiscare i beni, i soldi, i patrimoni ai mafiosi, alle mafie. Dobbiamo forse iniziare a confiscarli anche le persone, cioè a strapparli anche la loro manovalanza. Oggi la Chiesa è in prima linea su alcuni aspetti, su altri forse è troppo attendista. Abbiamo bisogno noi anche nella Chiesa ma non solo nella Chiesa, abbiamo bisogno di essere più profetici, di essere più chiari, di essere più netti, abbiamo bisogno di dire le cose come stanno, abbiamo bisogno di affrontare questi argomenti con più oggettività. Il buonismo voglio dire non ci porta da nessuna parte. D'altro canto è pure vero però che a volte proprio il buonismo, inteso come un attendismo, come una logica da pacche sulle spalle, non solo non aiuta queste persone a prendere consapevolezza del male che hanno fatto, ma non ci aiuta come Chiesa ad essere profezia. E noi mai come in questo momento, proprio davanti a fenomeni del genere, come Chiesa siamo chiamati ad essere profezia.